Nome e cognome Monica Mandelli Stefano Donati Ruolo e posizione Sono Managing Director a Goldman Sachs in Investment Banking e sono capo del nostro Global Family Office Coverage Group Sono Managing Director a BlackRock, una realtà multinazionale in cui Bocconi è sicuramente molto rappresentata e molto riconosciuta Dove ti trovi e da quanto tempo? Sono a New York da 17 anni, in America da 19 sono venuta per fare un Master e un MBA e poi pensavo di rimanere un paio d'anni invece sono rimasta, la vita prende le sue direzioni adesso è una famiglia, tre bambini, sono qui Sono a Londra, sono a Londra dalla dotcom bubble sono venuto qua con l'idea di rimanere due o tre anni e poi vedere alla fine ho deciso poi di andare a vedere una partita di cricket la partita è ancora finita e sono ancora qua Cosa ti manca dell'Italia? Dell'Italia mi manca tutto mi manca il bar dell'angolo dove prendere il cappuccino e la brioche la mattina mi manca il camore umano della gente che è molto difficile da replicare però devo dire che New York è bellissima e mi sono costruita una vita meravigliosa qui e se uno vuole si possono creare anche spazi di italianità in questa città Beh, la domanda secondo me è sbagliata dovresti chiedermi cosa mi manca più dell'Inghilterra visto che a Londra di inglesi doc ce ne sono veramente pochi Arriva un alumnus disorientato in città come lo accogli? Per prima cosa lo invito subito a uno dei nostri aperitivi così incontra persone simpatiche e carine e seconda cosa penso che potrei considerare di aprire il mio libretto segreto di indirizzi speciali e dirgli in maniera esclusiva dove si compra la mozzarella buona dove il ristorante è giusto chi è il migliore medico di famiglia dopo 17 anni qui sono preparatissima Beh, innanzitutto lo sottoponiamo a un crash test con un summer aperitivo con i nostri 100 summer interns bocconi qua a Londra poi ci assicuriamo che guardi dal lato giusto della strada che pronunci Leicester Square e Gloucester Road nel modo giusto e poi lo facciamo iscrivere alla BA e poi è pronto a partire Convinci chi ti sta guardando ad associarsi alla BA Io penso che nessun bocconiano degno del suo nome possa neanche immaginare di non associarsi alla BA perché si tratta di un'opportunità incredibile di fare parte di un network di persone in gamba che possono essere di aiuto sia dal punto di vista personale che francamente essere tutti insieme persone che lavorano per creare una società migliore Sì, certo, utilizzando la terminologia locale direi che è un no-brainer è un investimento con no downside e poi è un modo per tutti insieme contribuire a supportare l'università e a costruire il futuro di chi ci segue